però sono serio ma so che non è vero facciamo facciamo una serata assieme testa si è ma è però la devi smettere di innamorarti di tutte io io sono innamorata di te grazie per la donazione simile iaco ragazzi c'è il trenino punti scattivo pre ponte scattivo sape ragazzi dai tenete su adesso testa comunque parte di scherzi a me sei sempre piaciuto tu cioè non capito si si guarda pat mi conosce ci sta venendo spesso in questo periodo e capisci qualunque troia è alexina Porca putzana non in questo momento deve essere di cazzo Comunque stavo dicendo Era un freeze Smettere di parlare che ti pisce addosso Smettere di parlare che ti pisce addosso Smettere di parlare che ti pisce addosso Fra Basta eh Fammi incazzare Comunque stavo dicendo Pattami come stai conoscendo adesso un attimino meglio Io Riprova 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 No comunque stavo dicendo Che io fatti ci stavo un attimino conoscendo E già mi sono un attimino Porca putzana porca troia Porca putzana porca troia Stavo dicendo che ci stavo un attimino conoscendo Mi sono un attimino aperto Testa di cazzo Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Testa di cazzo Coglione Biscia fra Biscia fra Biscia fra Ti faccio Ti faccio Testa Testa Vai a fare in culo Non ti voglio No Mi fa parlare nessuno Allora Comunque Partire casa ha detto Che come ha detto Oh Ma forse non vuole a lui Ma questi sono alert di donazioni Sì Infatti stavo dicendo Continua così Continua con questo E fra l'hai detto Finito Un cuglione Comunque stavo dicendo A parte le cazzate Che con tre mi sono trovato particolarmente bene sin dall'inizio Cosa che Cioè mi piace Gianni Nuovo moderatore licenziato Ti avviso subito No E comunque mi sono trovato particolarmente bene con te Quindi quando vuoi salire Ci possiamo Possiamo fare una cena Basta che mi inizi a rispondere ai messaggi Poi per il resto Se mi dici che Girami il tuo numero Su Instagram Ok Giro il mio Ma chi Ha la testa Ma i Davide Di giro il numero La testa Sì la testa Scriviti ne uno cazzo Il mio veronome Te lo dirò quando ci vedremo dal vivo Riccardo Domani Domani prendo un po' Per Milano Ma vieni eh Pat Visto come si scopa Cioè E infatti io questo ve lo sapete Guarda lo giuro Ti basta Dimmi qualcosa Qualcosa che pensi su di me Allora Sei simpatico Bello Del servizio Anche dei capelli Quando sono asciutti Così come sto così Così benissimo Però quella maglia non mi piace Che squadra tifi Empoli Empoli Io scrivo Sì io tipo Empoli Comunque a parte dei scherzi No Senti figlio Trovato bene Senza conoscere una persona così tanto E te lo dico dal profondo del cuore E cioè Sono serio Sei una bella ragazza Con Cioè mi piace molto il tuo Il tuo modo di fare Il tuo essere molto introversa Ma allo stesso tempo Essere estroversa Ma è una domanda Hai mai succhiato un cazzo Con le palle pelose Scusa la parte sulla depilata Che vuoi rispondere O era per lui Comunque Quando vuoi ci vediamo Va bene Vai Metti la tua Scrivimi Scrivimi il tuo numero su Instagram Adesso Dai ci sentiamo Ciao testa Un bacione Ciao Ciao